Sono arrivata a Roma da Milano con degli amici, la sera siamo andati a ballare. Poi Procetta è il padrone di 4 Piper Club, di una casa discografica di negozi di vestiti beat per ragazze e bambini. Mi ha lanciato lui. Io mi chiamo Nicoletta Strambelli, mi ha chiamato Patipravo, un nome veloce come la vita di giovane, dice. Somiglia un po' depravato, un po' provos. Il nostro è un stato un incontro di due matti. Appena mi conosce la gente mi trova antipatica. Non mi interessa, non voglio fare niente per essere diversa o rendermi simpatica. Io sono come sono, come mi fa di essere. Lo so che ho dei difetti, per esempio dovrei avere le gambe, le mani più lunghe, la faccia più magra. Ma in sostanza mi accetto, mi piace, sono abbastanza narcisista. Se perdo te, cosa farò? Io non so più restare sola. Ti cercherò e piangerò come un bambino che ha paura. Mi ha insegnato a volerti bene, hai voluto la mia vita, ecco ti appartiene. Ora insegnami, se lo vuoi tu, a lasciarti, a non avanti più. Se perdo te, se perdo te, cosa farò di questo amore? Che resterà e crescerà, anche se tu non ci sarai. Ma hai insegnato a volerti bene, hai voluto la mia vita, ecco ti appartiene. Ora insegnami, se perdo te, se perdo te, cosa farò di questo amore? Che resterà e crescerà, anche se tu non ci sarai.